La rielezione di Giorgio Napolitano, tra i tanti effetti che produrrà nei prossimi giorni, un risultato salvificolo già avuto per il Partito Democratico, che finalmente alla sesta votazione a Camere Congiunte trovano a sua sostanziale unità. Infatti i deputati, senatori e rappresentanti delle regioni, tranne forse 8-9 eccezioni, hanno detto sì alla riconferma del Capo dello Stato. Ma al di là di questo, archiviata la delicatissima fase del voto presidenziale, nel campo del PD restano praticamente macerie. Una situazione resa ancora più evidente dalle dimissioni due sere fa del presidente Rossi Bindi e del segretario Bersani e dalla rinuncia ieri sera di tutti i componenti della segreteria di Largo del Nazareno. Una situazione che apre la strada da un congresso da tenersi in fretta. Formalmente Enrico Letta svolge il ruolo di reggente, che annuncia dentro il PD c'è da fare una grande pulizia. Verosimilmente Letta sarà affiancato da un direttorio nel delicato compito di governare un partito che si è dimostrato ingovernabile. Un partito dilaniato da 55 giorni di fuoco, l'affossamento prima del nome di Franco Marini e della linea delle Ampi Intese, poi il rogo con la carta dell'autosufficienza, della candidatura di Romano Prodi, fondatore dell'Ulivo e del Partito Democratico, tradito da 101 parlamentari democrat nel segreto dell'urna. In molti addirittura parlano di morte del PD, anche se all'interno dei democratici tutti puntano almeno a parole a salvare il partito. Renzi infatti dice il PD ha l'occasione di cambiare davvero, senza paura, e noi ci proveremo. E poi c'è la posizione del ministro Barca, che si è schierato apertamente per Rodotà, il quale secondo molti sarebbe già lavorando ad un nuovo partito, magari in convergenza con Niki Vendola. Tutta altra musica invece è in casa PDL. Sono soddisfatto, commenta Silvio Berlusconi dopo la riconferma di Napolitano, ma a chi gli chiede se ha vinto risponde che non è così. Rispetto alla sinistra, aggiunge, il nostro è stato un comportamento sensato e responsabile. Tuttavia tutto sembra andato nella direzione auspicata e fortemente voluta dal Cavaliere, non un capo dello Stato espressione del centro-sinistra. La dissoluzione del giro di poche ore della candidatura dell'odiatissimo Romano Prodi è soprattutto una grande ipoteca su un prossimo governo di larghe intese, che a questo punto trova la strada più che aperta.